Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si segnala la presenza di veicoli fermi o in avaria tra Firenze in Prunete e Scandici in direzione Bologna e tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze. Fare anche attenzione ad un controllo della velocità tra Incisare e Gello e Firenze Sud in direzione Firenze. Spostiamoci sulla Fipilè, anche qui veicoli fermi o in avaria tra Cascina e Gello in direzione dello Svincolo Firenze-Livorno e in entrata San Miniato sempre in direzione Livorno. Uno sguardo sulla statale Aurelia si ricorda dello scambio di carreggiata per lavori tra l'incrocio con la 12 e Rosignano in direzione nord. Treni, il regionale 23385, diretto da Pontremoli a Firenze, viaggia con 42 minuti di ritardo, ferma Pisa alle 16.33. Muoversi in Toscana Info, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, buon viaggio!